Ecco, qui un tempo macinavano il grano, adesso viene usato come magazzino, ci si trova di tutto. Ci sono i limoni? Sì. Sassà, Sassà, te la ricordi la poesia di Goethe? Ken's due das land, vu di Zidrone, Gliu, im dunken, laup di Goldorang e Gliu. E la tua acne, ti è rimasto soltanto un rossore? E' che io, io mi sento come, come uno che... Senti, facciamo un gioco. Sì. Chi lo fa cadere, paga pegno, eh? Attento. Così almeno, con questo potrà asciugarsi. Bravo. E' freddo. Ehi, non ne hai quasi più, eh? Ma allora la ragazza ce l'hai. Hai seguito il mio consiglio, vedo.